Eccoci in diretta come promesso con pochissimi minuti di ritardo, ma ci sta, il ritardo è normale. Con noi, come avevamo promesso, Emilio Champagne. Ciao Emilio, grazie di essere con noi. Questa sera sono molto curioso di questa idea di Emilio, noi l'abbiamo assecondata, bisogna dare merito a chi ce l'ha, perché parliamo di un periodo storico che credo sia molto poco indagato. Intanto, com'è nata in te l'idea di fare questa ricerca e dove hai fatto questa ricerca? Perché diciamo che parliamo di Canavese, abbiamo detto fra rivoluzione e reazione, ma parliamo di quel dopoguerra, prima guerra mondiale, 1918, dal dopoguerra all'avvento del fascismo, possiamo dire. Un periodo che noi prendiamo come abitudine, la prima guerra mondiale è finita e poi è arrivato il fascismo. Non è così, in mezzo c'è stato qualcos'altro, ma è anche cose curiose, so che tu hai scoperto cose curiose. Allora, intanto diciamo come è nata questa ricerca? Dove sei andato a cercare questi dati? Sì, allora, intanto questo pezzo che faccio stasera fa parte di una più ampia ricerca che sono veramente molti anni che mi dedico a questa cosa, che è in generale si può dire la storia del movimento che è stato operaio in Canavese, dalle origini fino al 1945. Siccome io sono stato e mi considero ancora un metalmeccanico, prestato in questo caso alla storia, però sono ancora un metalmeccanico, ho detto se non faccio io questa storia, chi vuoi che la faccia? Nessuno. E allora da tanti anni mi sono messo e mi sono riproposto di ricostruire una storia che effettivamente si sa molto poco e credevo ci fosse anche molto poco, ma poi in realtà non è così, ho scoperto tante cose. Allora, il metodo che ho usato è questo. Ho indagato tutte le fonti possibili, cioè i giornali, giornali di ogni tendenza, gli archivi e la letteratura di quelli che hanno già scritto prima. Tutto ciò che riguardava questo periodo che a me interessava l'ho schedato e catalogato e messo sul computer e ho fatto una cronaca. Ho fatto una cronologia degli eventi che mi permette poi di farci i ragionamenti sopra e tirare fuori i fatti più salienti di questa cosa. Certo, tu hai preso giornali, libri, gente che ha scritto. Ricerche nelle emeroteche di Torino, di Ivrea, gente che ha scritto, dati che ci sono nella letteratura locale, perché c'è molti che hanno scritto la storia del proprio paese e poi magari citano qualcosa in merito a queste cose. Tutta questa serie di piccole notizie messa assieme ti danno una visione che è di tutto rispetto. Certo, poi sono racconti di chi li ha vissuti, quindi sono fonti dirette, non fonti dirette, non ho sentito dire. No, sono fonti dirette almeno dai giornali, i giornali scrivono, poi c'è di varie tendenze, perciò dal risveglio alla sentinella, al grido del popolo, al pensiero del popolo. Certo, l'avanti, la stampa, tutto quello che c'era. Allora, raccontaci questa storia partendo da, magari facendo una fotografia di com'era la situazione, finisce la Prima Guerra Mondiale, guerra devastante, disastrosa, parte di lì. Sì, allora, la Prima Guerra Mondiale sappiamo quello che ha comportato per tutta la nazione ed è interessante vedere in cannavese cosa ha comportato la Prima Guerra Mondiale. Intanto, molto sinteticamente e brevemente, per necessità, possiamo dire questo. L'industria cannavesana e soprattutto alto cannavesana, in quel periodo, nel periodo della guerra, ma già anche prima, era abbastanza sviluppata, era un polo industriale già molto sviluppato per i tempi, soprattutto l'alto cannavese. L'eporediese stava venendo fuori anche loro con la fondazione dell'olivetti nei primi anni del secolo, ma era ancora poca cosa, eccetera. Mentre in cannavese vi erano di grossi stabilimenti, soprattutto cotonifici, soprattutto concerie e quant'altro. Diciamo che la guerra non ha portato distruzioni, il fronte era molto lontano da noi, erano più di 500 chilometri, perciò la nostra industria non solo non ha patito assolutamente nulla dalla guerra, ma essendo, si è riconvertita per l'uso della guerra ed è stata dichiarata per la maggior parte industria di interesse nazionale e ausiliaria all'esercito e quindi in una sorta, in un certo senso sono stati militarizzati tutti, però il lavoro era tantissimo e gli operai che lavoravano hanno goduto di una esenzione, non tutti, ma quelli che servivano e che erano fondamentali, hanno goduto di questa esenzione dal servizio militare. Questo non vuol dire che non hanno fatto militare, il cannavese ha avuto molte centinaia di morti e ha partecipato con migliaia di soldati. Se andiamo a vedere però la costituzione sociale di chi ha fatto la guerra, bisogna dire che l'hanno fatta di più i contadini, sono stati più i contadini, ma d'altra parte non è una novità perché un po' in tutta Italia la classe contadina ha portato un grande tributo di sangue, di sofferenza e di tutto. Perciò finì quando finisce la guerra, le industrie hanno lavorato molto, durante questo periodo di tre anni di guerra la classe operaia che era già strutturata in sindacati, era già abbastanza organizzata, non ha potuto naturalmente fare grandi rivendicazioni, però è riuscita in certi casi a riuscire a tenere dietro a quello che era, o almeno tentare di tenere dietro quello che era l'inevitabile costo della vita che aumentava, perché la guerra comunque le conseguenze ha portato questo. E quindi se l'è ancora abbastanza cavata in quel senso lì, quando finisce la guerra nascono i problemi, soprattutto anche dalle nostre parti, nascono i problemi perché queste aziende abituate a lavorare forzatamente e in maniera molto massiccia viene a mancare il lavoro e hanno bisogno di una riconversione, un'altra riconversione alla produzione civile. Durante la guerra facevano giberne, facevano zaini, oggetti, noi avevamo soprattutto le fabbriche tessili e perciò facevano queste cose. Finita la guerra devono riconvertirsi. Per riconvertirsi hanno bisogno del tempo e perciò si licenziano anche tanti operai, perciò le maestranze vengono ridotte e perciò cresce la disoccupazione. A questo si aggiunge il fatto che rientrano i reduci dal fronte, rientrano i reduci dal fronte e non hanno un posto di lavoro, cioè la situazione diventa abbastanza tragica. In questo periodo, voglio ancora ricordare questo, si sviluppa nel Forno Rivara un centro che sarà molto importante negli anni a venire, che è un po' un polo dello stampaggio, il polo dell'industria. Le origini dello sviluppo industriale della zona di Forno Rivara è precedente alla Prima Guerra Mondiale, c'erano già alcune fabbriche, ma è proprio dopo la Prima Guerra Mondiale e durante che comincia a svilupparsi un certo tipo di industria. Questo lo vedremo dopo. Anche perché per l'industria bellica probabilmente servivano anche pezzi di ricambio che l'industria pesante poteva dare, quindi sicuramente questo è un vantaggio. Quindi finisce la guerra, le fabbriche hanno difficoltà perché per la guerra lavorano a pieno regime, per la guerra, dai cotonifici alle industrie metalmeccaniche soprattutto. Quindi si trovano con meno lavoro, licenziano le persone, arrivano quelli dal fronte e ricordiamo che eravamo in monarchia ma si votava, c'era comunque un Parlamento. E quindi quello che succede dopo la Prima Guerra Mondiale si riflette anche sul piano politico o no, perché poi mi pare che le elezioni quando furono? Un anno dopo, vero? Furono nel 19, ma è ancora interessante ricordare un aspetto che finita appunto tra il 18 e il 19 è appena un anno. Il 19 vedono le prime elezioni del dopoguerra e dovevano cadere prima ma erano state rimandate proprio perché c'era la guerra. Ma in questo anno succede una mezza rivoluzione davvero perché c'è una grande crescita dello scontro sociale perché il caro vita aumenta tantissimo dopo la guerra. Infatti tutte le lotte che si fanno da parte dei lavoratori li fanno per il caro vita, sono scioperi per il caro vita, sempre sul caro vita. E questo cosa porta? Porta quello che dicevo prima, che comunque in ogni caso la classe operaia riesce a recuperare qualcosa, ma quelli che non hanno la possibilità, il contadino o gli altri, hanno un'ulteriore penalizzazione che comunque dividerà già il corpo sociale, lo spezzetta già in un certo senso. Tanto per dire cosa voleva dire la lotta al caro vita. C'erano, si facevano un comitato, un comitato, non so, Ivrea, c'è un comitato per il caro vita che impone alle autorità di calmierare il pane, di calmierare la vendita delle scarpe, qualsiasi genere. E si pensa di fissare un prezzo che non è un prezzo dettato da così arbitrario. Allora cosa succede? Succede anche che uno che ha comprato, un commerciante che ha comprato le scarpe a 10 e ha costretto a venderle a 9 perché gli impolgono quella. Cioè, voglio dire, si crea già anche un'ulteriore frattura nel corpo sociale. La storia si ripete, ti ricordi la storia della mascherina avuta poco tempo fa quando il prezzo imposto alle mascherine ha provocato una discesa in piazza dei farmacisti che le avevano comprati a 10 e dovevano venderle a 5. Ecco, è la stessa cosa. Esatto. E mi piace mettere l'accento su questa cosa perché è un po' quello che vedo adesso. Cioè, quando si creano queste fratture verticali, proprio, cioè, orizzontali nel popolo, è sempre una brutta cosa, no? Adesso, per esempio, viviamo per un altro motivo, ma non so, il commercio è fortemente in crisi, il commercio al minuto, i cosiddetti bottegai, chi ha un negozio, chi ha una piccola attività. Sta vivendo un grande momento di sofferenza, soprattutto per il Covid, ma già prima c'era questa cosa. Certo. Ecco, allora vivono le stesse cose dovute a più, non per un'epidemia, ma anche allora, ecco, abbiamo dimenticato di ricordare questo, nel 18-19 c'è anche l'epidemia di Spagnola, che se ne parla pochissimo, anzi, nessuno quasi sa niente. Lì veramente avviene la cosa di Greggia, no? Certo, l'immunità di Greggia. L'immunità di Greggia lì avviene. Ma con tantissimi morti. Con tantissimi morti. Ecco, solo una parentesi. A Castellamonte, che gli unici dati scientifici e controllabili che abbiamo, abbiamo tirati giù, facendo la differenza tra i morti di ottobre 18 con tutti gli altri anni, e vediamo che sono quasi 200 i morti in un mese, in più. Certo. 200 morti solo a un paese come Castellamonte. Vuol dire che erano malati almeno 4-5 volte di più. Cioè, è veramente un disastro. Però dopo un mese, il mese dopo già si riprende l'epidemia, insomma. Chi è morto è morto. E certo. L'immunità di Greggia funziona così. Tanti morti e poi gli altri... Però non è la spagnola che produce tutti gli sconvolgimenti sociali. Magari contribuisce, sicuramente, ma non è solo quello. Sì, ma minima parte. Anche perché eravamo abituati alla guerra, che di morti ne faceva molti di più che la spagnola, forse. Una grande divisione anche che si crea fra il popolo, chiamiamolo popolo, è tra quelli che hanno fatto la guerra e quelli che non l'hanno fatta. Noi sappiamo che, per esempio, le grandi forze politiche, tipo il Partito Socialista, sia che ero unito in un'idea di proletari di tutto il mondo, unitevi, vogliamoci bene tutti. Tutti e... cosa fa? Quando viene la guerra, alla fine si divide, ognuno va per la sua nazione e crolla tutto. Qualcuno resta fedele al principio del non intervento, altri sono interventisti. Ma quando poi ritornano, queste divisioni si ricreano, anche fra gli stessi membri del partito, o di un certo modo di pensare. Perciò, già questo è un ulteriore... diciamo che il popolo è grandemente sfilacciato e perde, è un magma che ribolle, che non si capisce cosa. In questo ribollire di tensioni, di idealità, soprattutto, anche, di molti... di idealità, c'è quest'idea che bisogna cambiare, c'è l'idea della rivoluzione. In fondo, cosa succede? Succede che nel 1917, per la prima volta nella storia, un paese aveva proclamato una rivoluzione socialista. Nasce l'Unione Sovietica, no? E per la prima volta c'è un grande paese che dice di essere sul cammino del socialismo. Questo provoca grandi aspettative immotivate, ma però provoca grandi aspettative anche fra il movimento operaio e sindacale italiano, no? che su questo... Ecco, movimento solo su quell'operaio o anche su quello contadino? Ma anche su quello contadino, anche su quello contadino. Soprattutto i piccoli contadini, inizialmente, inizialmente erano... Dalle nostre parti noi abbiamo un'economia agricola che è molto frammentata. Noi abbiamo la piccolissima proprietà e perciò i contadini nostri, diciamo, non sono mai stati molto uniti e molto sindacalizzati. C'erano le leghe bianche che facevano, no? Che l'organizzavano. Le leghe del Partito Socialista contadine erano già... e c'erano, ma erano già di meno. E era più difficile perché la proprietà era proprio... era proprio molto piccola. Però, insomma, c'era sicuramente. Tutta questa cosa qua creava questa grande aspettativa che si è tradotta poi, e veniamo alle elezioni, no? Si è tradotta anche in termini politici, no? Ecco, prima... le elezioni sono nel 19, no? 19, 20... ci furono... Volevo chiederti una cosa... La prima è il 19. La prima è il 19, allora. Questi... prima di parlare di elezioni, tu hai detto queste proteste. Queste proteste... cosa andavano in piazza con le bandiere o ci furono proteste anche violente o... O sono ideologiche solo? Beh, intanto ci fu un'ondata di scioperi da record, da record assoluto, perché... perché... fu un periodo un po' come noi, 68-69, che da una minima cosa in su ci si fermava, si voleva, si pretendeva, e naturalmente si spaventava un mucchio di gente. Certo. Si spaventava un mucchio di gente perché anche in quel periodo lì la violenza, che c'è sempre stata in ogni movimento e dappertutto, no? C'era anche una certa violenza. Le cronache sono piene di piccoli episodi di intimidazione, di prevaricazione, di violenza, e di contro... di persone che combattono questo, no? Che denigrano. Perché poi c'era anche la denigrazione. Naturalmente chi aveva interesse a difendere i privilegi, per esempio le aziende in quel periodo ne erano sotto attacco da tutti, anche dallo Stato, perché i grandi profitti di guerra che hanno fatto non volevano pagarli. La stessa manifattura di Quarnier è sotto indagine perché deve pagare dei grandi profitti di guerra che non vuole pagare e fa di tutto per non pagarli. Certo. I famosi pescecani che si sono arricchiti dalla guerra. Lì nasce tutta questa epopea che chi studia il periodo viene fuori, no? Ed era anche in parte vera. Chi aveva gli interessi da difendere li difende. E naturalmente si spaventa quando c'è qualcuno che glieli vuole portare via, no? E perciò, per esempio, i giornali liberali... Che argomenti usano? Usano, per esempio... Anche questo è interessante, secondo me. La propaganda contro, no? Per esempio, chiaramente fino alla guerra era difficile poi attaccare i socialisti perché, dicevi, dicevi... C'erano un gruppo che voleva il bene di tutti, voleva tutti i fratelli, tutte le nazioni del mondo che si volevano bene. Cioè una visione apostolica quasi, quasi che sembrava, difatti, apparagonavano Gesù al cristianesimo, il socialismo, era un po' una certa cosa. C'era poco da criticarli, no? Come si criticava? Si criticavano perché i capi erano soprattutto degli insegnanti, degli avvocati, principalmente della piccola borghesia, non erano chiaramente dei popolani che non erano capaci di leggere. Allora si diceva, ecco, quello è ricco, eppure vi costringe voi, vi guida voi, capisci? Questa polemica personale, no? Lui mangia tre volte il giorno, poi dice a voi di scioperare, vi fa perdere tutti i soldi. Ecco, erano quegli argomenti. Con le 17 hanno un argomento in più e anche molto più efficiente, perché con la nascita dell'Unione Sovietica a sinistra si vede il sol dell'avvenire che è nato, perciò c'è il paradiso sulla terra, no? E gli altri dicono, noi vogliamo fare come quelli là, vogliamo fare come là. E qui invece si dice, oh, belle robe volete fare, la mangiano i bambini, fanno questo, fanno quello, e perciò lo scontro sale di livello. Se vado a leggere Facebook di questi tempi vedo le stesse cose, quindi gli argomenti, i personaggi sono diversi, ma siamo sempre lì, muro contro muro, fake news, adesso le chiamiamo così, ma anche allora c'erano le notizie false. Chi qui pensava... Ma sono false, ma poi... Manipolate. Manipolate, perché mica poi... o almeno strumentalizzate. Strumentalizzate. Quando raccontavano che noi sovieti, soprattutto i primi anni, morivano quasi di fame, ma era una verità, non era una verità. Certo, no, 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 certo. La sovieta ha avuto una rivoluzione, una guerra interna, ha avuto disastri, careffie enormi. E gli altri che poi magari prestavano il fianco, difendendo anche quello che magari... Certo, non era difendibile, ma anche oggi leggiamo, ecco quello là, si fa i soldi facendo il sindacalismo, mi sembra che a distanza di cento anni, perché diciamolo anche, questa ricerca nasce anche perché sono passati cent'anni da allora e quindi bisogna capire che cosa è successo. Quindi ci furono tumulti negli stabilimenti, nelle piazze, però ci furono anche le elezioni. Sì, arriviamo subito. C'è ancora un aspetto da notare. Il nazionalismo, perché poi si mobilita la gente, da una parte si mobilita la gente per una società nuova, al sol dell'avvenire e tutto, dall'altra si mobilita per la patria, perché si cominciano a sventolare le bandiere e dire noi siamo i veri italiani, il nazionalismo, e allora ecco che ci si divide fra nazionalisti e fra invece persone che vengono accusate di... siccome vogliono un ecumenismo in tutta Europa e tutti i fratelli dicono voi non siete italiani, voi non difendete la patria, siete dei traditori della patria. E di fronte la gente, di fronte al richiamo del nazionalismo, confronto al richiamo della classe, finisce sempre per scegliere il nazionalismo, perché è molto più facile. Perché se dobbiamo trovare qualcosa in comune fra me e te, diciamo parliamo la stessa lingua, siamo tutti e due italiani, perciò sventoliamo la bandiera e siamo tutti e due d'accordo. Invece essere d'accordo per fare una certa cosa, una certa società... Certo, è diverso, una riforma, una legge, è più difficile trovare l'accordo. Gli interessi del contadino non sono esattamente quelli degli operai, dei tecnici, degli imprenditori, eccetera, eccetera, e allora lì. Certo. Ma veniamo alle elezioni. Questo viene fuori nelle elezioni, perché le elezioni qualcosa dicono. Certo. E le elezioni, le elezioni del 19, dicono, elezioni sono elezioni che si svolgono in un clima abbastanza caldo, però ancora accettabile, c'è un grande trionfo del sinistra, c'è un grande trionfo del Partito Socialista, in tutti i sensi. Per esempio, a livello nazionale, a livello nazionale prendono circa il 50... 30, adesso volevo dire, non volevo dire troppi dati, perché... Però, insomma, è in dubbio che il Partito Socialista vince in tutta Italia, in modo particolare nelle regioni più sviluppate. e in cannavese... Dimmi pure. In cannavese. E in cannavese ci sono dei risultati molto significativi, no? Per esempio, se a livello nazionale l'affluenza intanto è del 56%, 56-58, no? Se vuoi, anche qua, un dato simile al nostro. Certo. Il Partito Socialista a livello nazionale prende il 32%. Il Partito Popolare il 20% e i liberali democratici e radicali che erano molto divisi in quel periodo prendono solo il 15%. Nel circondario di Ivrea, invece, il Partito Socialista prende poco meno del 51% da solo. Il Partito Popolare il 14% e gli altri l'11%. Cioè, ha un grande successo il Partito Socialista. E questo grande successo il politico spaventa spaventa tantissimo, no? Spaventa tantissimo soprattutto gli imprenditori, soprattutto i liberali che hanno sbagliato politica dividendosi e facendo un po' il gioco degli altri. E anche, credo, la Chiesa Cattolica da quel punto di vista lì. la Chiesa Cattolica però si tiene ancora abbastanza, sta entrando, ma del 19% è ancora poco presente. Ancora poco. Perché, sì, nasce il partito, anche lì, nasce proprio allora il Partito Popolare. Il Partito Popolare, no? Certo. E quel famoso enciclica, mi sembra, è spedico, come diceva, prima diceva che non bisognava, i cattolici non dovevano entrare in politica. Poi dopo, di fronte a questi risultati, a questi pericoli, che sta correndo l'Italia, come corrono tutta Europa, ripeto, dopo la nascita del primo Stato Socialista, hanno questo pericolo, cercano di porre i rimedi, no? Di porsi al paro. Certo. C'è questa cosa qua. E' certo che anche i cattolici entrano nel lagone politico con il Partito Popolare, eccetera. La composizione della società, della, diciamo, della società canavesana in quel periodo, del 19, possiamo dire questo. Intanto l'informazione era quasi tutta in mano, in mano ai liberali, perché c'era la sentinella del canavese, certo, che era nata dal 1893, di un'impostazione chiaramente liberale, c'era il pensiero del popolo fino al 1920, che era il pensiero del popolo, era un giornale di orientamento cattolico, e proprio nel 19 si trasformerà in il risveglio popolare, che sarà l'organo poi della diocesi e dei cattolici che partecipano. Certo. Ecco. Nel 19 c'è anche l'azione riformista, e qui bisognerà spendere alcune parole. L'azione riformista è il giornale fondato da Camillo Olivetti, no? Che durerà solo due anni, dal 19 al 20, ma Camillo Olivetti, viene fondato da Camillo Olivetti. Poi ci ritorniamo su questo. Le personalità di quell'epoca che ritroviamo su tutti i giornali, ritroviamo un po' dappertutto, sono ovviamente Camillo Olivetti, che ha tutta una storia dal 1898 in avanti di referente del Partito Sociale, del Partito Socialista, di fiduciario, di rappresentante. Era rappresentante del Partito Socialista per il Piemonte e la Valle d'Aosta. In ogni manifestazione, in ogni attività, in ogni organizzazione del Partito Socialista, fino alla Prima Guerra Mondiale, fino alla Prima Guerra Mondiale, c'è sempre la sua opera, la sua traccia. Anche fisicamente, anche fisicamente la Barbara, è un Marx italiano quasi, poi diventare... Se poi leggiamo quello che... Cioè, io sono convinto di una cosa, che Camillo Olivetti è ricordato giustamente come il fondatore della grande Olivetti, della grande industria, come un grande industriale, in realtà lo fu, ma se non fosse stato un grande industriale, sicuramente in cannavese era ricordato come il padre del socialismo cannavesano, perché aveva tutte le caratteristiche, perché era anche una persona istruita, aveva rapporti conturati, con i vertici, con Treves, con tutti i vertici del partito, perciò, se poi abbiamo la voglia, qualcuno vuole andarsi a vedere il libro Gli Olivetti, scritto da Bruno Caizzi, verso gli anni 60, che descrive molto bene il pensiero di Camillo, qual era, e se legge quello che scriva, si fa un'idea, un'idea interessante di quello che poteva essere all'epoca Camillo Olivetti. Con l'avvento della guerra si spegne un po' il suo entusiasmo, anche perché l'industria sta andando bene, sta crescendo, perciò le sue forze sono più portate verso l'amministrazione dell'industria, che quella abbandona un po' quella politica, ma però lui la conserverà sempre. E nel 19 fonda questo giornale a livello canavesano più che tutto, che porterà avanti il suo riformismo, il suo essere socialista riformista, perché già allora si stavano dividendo fra riformisti e massimalisti, lui era un riformista, lui era, credeva in un socialismo che non doveva battere violentemente lo Stato, ma doveva cambiare lo Stato dall'interno un po' per volta, era un po' come il socialismo inglese, i labur, i labur padri, che accettava l'impianto istituzionale con la regina dell'Inghilterra, perché era una nazione democratica l'Inghilterra e quindi lasciava la possibilità di andare al potere per vie democratiche, in Italia questo non l'abbiamo avuto, il professor socialista è stato sequestrato un paio di volte prima della guerra, è stato osteggiato in tutte le maniere perché era un problema, non è che non eravamo l'Inghilterra, la nostra monarchia non era non era la monarchia inglese la nostra. Perciò questi giornali sono quelli che formano l'opinione pubblica e li vedi leggendo i cosi. Chi voleva essere alternativo a questi leggeva l'Avanti, leggeva Il grido del popolo che era un foglio socialista della provincia di Torino e poi c'erano volantini e attività improvvisi. Questa era un po' una visione alternativa. Gli uomini politici erano, ripeto, Camillo Olivetti, era questo Emilio Pinchia, Emilio Pinchia deputato, anche lui liberale ma di un certo tipo, per esempio lui non votò la partecipazione nell'impresa coloniale in Libia, per questo fu molto criticato, un liberale diciamo democratico, così. Poi c'era Giacomo Saudino, una personalità anche della Valchiusella molto importante che era un liberal un po' più radicale. Giacomo Saudino finirà a lavorare poi all'Olivetti anche dopo il 20 eccetera e poi c'era Carlo Alberto Quirico che era proprio un deputato liberale un po' classico. Radicale, liberale un liberale portato avanti soprattutto dalla Sentinella la Sentinella appoggiava questi erano gli uomini e questi erano i giornali che formavano l'opinione pubblica però nonostante per queste elezioni non ci riusciranno e diciamo che il trionfo dei socialisti è chiaro. Di fronte a questa vittoria nascono dei problemi diciamo prima ci si pone dei problemi e difatti nel 19 nascono Milano c'è la fondazione dei fasci ecco perché noi in Canaveza abbiamo parlato di tutto tu ci hai parlato i socialisti liberali e non abbiamo traccia fino ad adesso del fascismo no assolutamente abbiamo solo qualche traccia dei nazionalisti vengono chiamati nazionalisti ed erano nazionalisti cioè erano quei militari quei soldati che avevano fatto la guerra e non accettavano imposizioni erano un po' esaltati ed erano comunque credevano nella patria nella visione tradizionale della patria la patria che trionfa sopra di tutti e purtroppo lo sbaglio anche dei socialisti fu che che non capirono crearono invece di accaparrarsi di cercarli di farli avvicinare a loro creavano invece proprio li prendevano in giro per dire c'era delle disposizioni che consigliavano ai soldati di non andare in giro per Torino in divisa perché venivano dileggiati dalla dalla gente guerra fondai robbi di questo genere avete voluto la guerra adesso pagate tutto cose di questo genere sulla sentinella c'è per esempio uno che scrive di Da Ponte dove dice io ho fatto la guerra mi sono guardato le medaglie non posso più girare per il paese perché mi sputano addosso perché mi dicono che sono che sono un nazionalista che sono qua che sono là solo perché voglio bene all'Italia eccetera eccetera e tutte queste cose e questo il clima era atteso come ci hai detto fin dal subito nel dopoguerra era atteso poi chi è che ha portato il fascismo in Canavesa come è arrivato il fascismo in Canavesa tu hai detto nel 19 20 nel 19 nascono i fasci 20 si sviluppano il fascismo come è arrivato da noi allora abbiamo ricordavo prima che a livello nazionale nel 1920 nascono i fasci di combattimento i cosiddetti Sansepolcristi perché vengono fondati in via Sansepolcro Milano ecco se noi leggiamo il programma di quei di quei che poi saranno fascisti o di quei fasci di combattimento li chiamavano era un programma che univa univa secondo me da proprio io non puoi non è che voglio otteggiarmi a storico ma insomma qualcosa ho letto univano un programma economico che poteva sembrare quasi un po' socialista c'era addirittura una certa socializzazione dei mezzi di produzione cara al marxismo e alle cose con una grande enfasi patriottica patriottata un po' della peggior specie no? e questi due mix di cose secondo me fu una roba esplosiva perché rubò sottrasse molta non molta ma alcune cominciò cominciò poi ne sottrasse molta ma cominciò a sottrarre consenso a certi socialisti che giudicavano il partito inconcludente parolaio che voleva parlava sempre di rivoluzione ma non aveva il coraggio di farla no? è vero e poi metteva assieme quello che dicevi e metteva assieme gli ex militari nazionalisti con una frangia di socialisti quell'operazione che i socialisti non hanno capito che avrebbero dovuto fare e pensa che recuperano anche in quel periodo una una discreta fetta di anartici per esempio anche in canavese il sindacato era quasi in mano agli anarco sindacalisti si chiamavano erano sindacalisti anartici che non accettavano l'imposizione di nessuno voleva quando c'era da fare la lotta si lottava duramente dopo di che si scioglieva e si ricominciava poi se c'era bisogno ecco questa componente anartico-sindacalista sarà molto presente lì sarà molto presente anche nei primi fascisti di Torino con quel famoso Giona c'era un anartico-sindacalista che si chiamava Giona adesso il nome non lo ricorda ma era di estrazione sindacale e che per un primo tempo guidò la nascita di questi fasci di combattimento e del fascismo poi avvenne una cosa importante a livello piemontese che si ripercosse si ripercosse nel canavese che è quello di Cesare De Vecchi Cesare De Vecchi era una persona monartica era molto legata alla monarchia era un monartico che però appunto aderisce al fascismo e gli dà una svolta in senso in senso reale in senso monartico perché i Sansepolcristi erano già erano più per non è che erano molto cioè c'erano un po' di tutto invece lui chiaramente è un monartico e trasforma il fascismo poi in questo movimento tutte le velleità repubblicane del fascismo le fa fuori Cesare De Vecchi ebbe un grande ruolo in canavese perché condizionò la formazione di tutte le sezioni del partito fascista fu il promotore di tutte e fu molto molto presente in canavese in canavese lo troviamo se devono inaugurare le scuole di Rivarolo piuttosto che la diga del piova suo Sant'Anna lui lo troviamo che viene partecipa è proprio la figura certo principe di quell'epoca i canavesani come presero il fascismo poi diciamo una cosa un partito tu dicevi prima il socialismo Olivetti giornali dietro la sentinella i liberali i socialisti ma il fascismo chi aveva dietro perché dietro ci vogliono anche risorse ci vogliono finanziatori ci vogliono il canavese li aveva o li importava da fuori il discorso secondo me è molto facile è molto chiaro è molto chiaro se in Italia conosciamo dalla storia che furono gli agrari soprattutto in centro Italia e al sud a finanziare il partito fascista in canavese furono sicuramente provato prova provate furono gli industriali furono gli industriali scesero a piedi giunti come si dice in campo appoggiando appoggiando questi appoggiando ma non convinti non che fossero convinti perché per esempio erano convinti come tanti altri di poterli usare di poterli usare per fare una certa pulizia per fare un certo ordine che c'era bisogno per poi riprendere in mano la situazione era il male minore comunque di fronte al socialismo che avanzava e alla possibilità di perdere tutti e allo Stato che ti schiaccia e che ti chieda ancora i soldi che hai guadagnato durante la guerra questi vogliono fare la rivoluzione se questi fanno la rivoluzione ci sbarazziamo di tutti e due in una volta sola questo forse era un po' la paura maggiore avviene anche l'anno dopo comincia dal 20 quando ci sono anche un'altra tornata di elezioni in questi anni votano quasi tutti gli anni perché c'erano gli arretrati della guerra perciò nel 20 ci sono le prime elezioni amministrative in tutta Italia e in Canavese è un trionfo per i socialisti che sono ancora uniti non sono spaccati quei comunisti sono ancora molto uniti e praticamente conquistano quasi tutti i grandi centri canavesani da Ivrea a Castellamonte a Ponte io ho una tabellina qua ricavata dai giornali appunto perché anche quello non è facile avere i risultati delle elezioni però ne dico solo alcuni per ricordare i più grandi Castellamonte Ponte è quello più rosso diciamo così poi ci sono Caluso ci sono anche Rivarola in quel periodo lì c'è Ivrea e c'è tutta una serie di paesi piccoli si può dire che il Canavese era rosso allora sì sicuramente e lo rimarrà anche abbastanza per qualche anno purtroppo da lì nascono i problemi da lì cominciano a nascere i problemi diciamo che il 19 si chiude e l'inizio del 20 diciamo ecco l'inizio del 20 fine 19 l'inizio del 20 è l'apoteosi del successo dei lavoratori del movimento operaio e di conseguenza dei socialisti e delle sinistre da lì comincia un lento ma determinato un lento ma inarrestabile declino ecco diciamo per chi ci segue e anche per essere chiari non parliamo di comunisti o di democristiani o meglio di popolari perché i democristiani arrivano molto dopo perché non ci sono ancora sì il partito popolare c'è ma è appena nato e conta il 15% quindi ci sono i liberali e i socialisti le due forze politiche grandi allora erano quelle allora erano quelle e prendono i socialisti prendono la maggioranza Curnier Ponta Feletto Forno Forno Rivara Favri Aglieri Varolo Chivasso Dostelamonti Ivrea e tanti altri compreso i piccoli certi piccoli borghi come Alpette ah Alpette rimarrà rimarrà nei secoli nel fedele e perché perché c'era un gruppo di persone che lì erano socialisti lì era la patria di Giambattista Titale Giovanni Battista Titale che sarà uno dei primi antifascisti e poi diventerà un partigiano partigiano certo tutta questa cosa per farla breve spaventa paurosamente paurosamente la classe dirigente e sconcerta la classe liberale si accorgono che hanno fatto degli sbagli enormi no se le elezioni queste erano di tipo maggior di prima erano erano proporzionali poi si modifica l'architettura delle si cerca di modificarla un'architettura per favorire la concentrazione certo perché assistiamo anche nei periodi di crisi ma secondo me lo vediamo anche nella nostra storia da adesso quando le elezioni non vanno come qualcuno vorrebbe ci sono le riforme costituzionali si cambia la legge sono passati cent'anni stiamo ripercorrendo quel percorso potremmo già scrivere quello che succede nei prossimi anni perché l'abbiamo vissuto cent'anni fa siccome la storia ha un senso se la leghi al presente e se ti serve anche a imparare un po' del presente dicono che la storia è maestra per quello non dico che sia uguale non dico che sia la stessa cosa però vedi che anche qui si prova a fare una cosa maggioritaria poi ma no per carità non ha funzionato adesso si parla proporzionale c'è tutte queste cose alla ricerca di una stabilità certo comunque per dire per dire a Quornier il primo sindaco socialista è un certo Ettore Ruatti che fa il falegname certo a Castellamonte è un impiegato che è già un intellettuale certo tutti gli altri sono sono di livello appunto semplice semplice non potrebbe essere altrimenti perché non c'era una classe dirigente per dirigere e in questo c'era c'era il dibattito su dire ma è giusto andare a prendere il potere in un paese per cui intanto non sei neanche capace di amministrarlo non sarebbe meglio e questo lo diceva il pizzetto di Lenin in uno dei sovieti diceva inutile bisogna fondare fare il partito prendere violentemente il potere la dittatura del proletariato e tutte queste cose certo il nome è per conto del popolo che non saprebbe farlo questo questo e difatti per completezza va detto che proprio anche a fine del 19 nasce la terza internazionale socialista perché per capire bisogna addentrarci un po' in questo perché appunto la terza internazionale socialista è già la terza perché ne hanno già fatte due da Marx in poi ne hanno fatte due e tutte e due sono fallite una è fallita sotto i colpi della comune di Parigi che i tedeschi hanno invaso la Parigi l'hanno soffocata nel sangue la seconda nasce con la prima guerra mondiale perché tutti erano uniti tutti si volevano bene poi dopo ognuno ha scelto le proprie borghese ha combattuto operai contro operai operai tedeschi contro operai italiani e tutti si sono macellati tranquillamente la terza la fonda Lenin a Mosca e dice e dice per vincere questa guerra questa trasformazione del mondo eccetera eccetera e tutto bisogna che tutti i partiti socialisti si uniscano in una nuova internazionale però con a capo Mosca dove sia Mosca a comandare e a dirigere tutta la cosa io sto raccontando con me non è che detto certo no 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 ecco però questa è la storia però è per capire perché questo questo porterà due anni dopo ha la scissione all'interno del partito socialista a Livorno a Livorno quando c'è il congresso intanto in questi anni si logora già dicendo che voglia fare la rivoluzione poi non la fanno gli stessi socialisti socialisti ufficiali dicono che sono per l'internazionale ma però non vogliono Mosca non vogliono cambiare nome mettere vigi verso al congresso di Livorno una fazione di socialisti aderisce alla terza internazionale si chiamerà comunisti e usciranno dal congresso e di fatto spaccherà spaccheranno il partito certo che provocherà sono d'accordo a dire che provocherà dei disastri sovrumani certo dell'Italia e andiamo proprio a quel passaggio magari perché altrimenti riusciamo ad andare lunghissimi è già un'ora è già un'ora è già un'ora ma allora non riusciamo no però andiamo avanti noi non ci vogliamo mica dei problemi parlavamo del congresso di Livorno scissione si divisero anche in canavese allora seguendo certamente e questo cosa comportò in canavese anche le amministrazioni si comportò che intanto la divisione fu abbastanza marcata perché intere sezioni aderirono aderirono al partito comunista per esempio Ponte l'intera sezione socialista passa con la mozione con la mozione della terza internazionale Fabria altre altre grosse realtà si spaccano e quando c'è una spaccatura c'è una cosa c'è una cosa brutta perché poi si creano si creano sai è come il fratello che tradisce è sempre peggio del nemico non fa bisogno essere degli psicologi per capire questo questo abbiamo vissuto nel momento in cui a Livorno qui diciamo che nasce il partito comunista intanto comunisti e socialisti che in teoria dovrebbero essere vicini perché accumunati diventano nemici acerrimi perché uno contro l'altro perché tu te ne sei andato tu hai provocato tu non volevi insomma come quando ci si divide queste cose qua adesso per andare avanti non soffermarci troppo direi solo questo mentre mentre in canna parliamo restiamo in cannavese ma perché per restare in cannavese la fazione comunista ha parecchio successo tra i militanti tra la sezione tra gli attivisti no ma poi non avrà un corrispondente successo elettorale perché quando si andrà a votare nelle elezioni dopo e si andranno divisi socialisti comunisti i socialisti prenderanno molto più voti e i comunisti ne prenderanno abbastanza pochi capisci certo però elezioni che vengono quell'anno lì l'anno della scissione vero sì vengono lezioni politiche lezioni politiche vengono quell'anno lì e vedono vedono sono maggioritarie già certo cambiata la legge e vedono i liberali uniti in un blocco lo chiamavano il blocco dove finalmente tutti i liberali che prima erano tutti divisi sono uniti e in più inseriscono dentro anche qualche qualcuno di questi fasi di combattimento di cosiddetti fascisti perché il partito fascista nascerà solo nel 22 non erano ancora partito nazionale fascista però erano chiamiamoli nazionalisti fascisti entrano dentro ma non hanno un grande successo anche loro elettoralmente certo e i popolari ci sono in quelle elezioni il partito popolare i popolari ci sono ci sono e in certi posti la partecipazione la partecipazione l'adesione varia molto da luoghi a luoghi voglio solo dirne uno proprio i popolari che dici a Rivarolo il blocco c'è il blocco liberale e questi pagini prendi 538 voti i popolari ne prendono 325 i socialisti 303 e i comunisti 64 ma sono molti i popolari perché per esempio in altri posti invece a Castellamonte sono solo 165 in altri posti a Ivrea vediamo a Ivrea quanti sono sono 253 i popolari però sono 750 i voti al blocco e 481 i socialisti e 150 ai comunisti cioè nel caso nel caso di Ivrea se assommiamo i voti dei socialisti e dei comunisti andiamo a poco più di 600 mentre il blocco ne prende 750 e i popolari 253 è chiaro che i popolari sono in questo caso lago della bilancia e chi scelgono scelgono il blocco e nelle successive elezioni si farà una giunta la giunta di sinistra verrà costretta già a dimettersi questo è interessante la cosa di Ivrea perché intanto c'era una giunta di quelle veramente che terribili perché applicavano proprio il donbatismo la sentinella dice che per esempio in un discorso in piazza di città il sindaco di Ivrea minaccia tutti i ricchi dicendo a tutti i ricchi vi verremo fra un po' veniamo a prendervi e vi sgozzeremo tutti e scrive proprio e accompagnava con il gesto le parole le parole certo immagino un sindaco che parla che dice guardate tutti i benestanti veniamo e vi sgozziamo è chiaro che provoca una reazione feroce certo ed è chiaro anche che quando questi gruppi che sono pochi ma organizzati di fascisti di persone che sono anche avezze alla guerra alle percoste a violenti uccisioni e tutto fanno un certo tipo di lavoro sporco hanno il plauso ma non solo degli industriali che li finanziano e li foraggiano ma anche della gente comune del bottegaio che che vede finalmente che le uracacambio ci va ordine disciplina e tutte queste cose qua certo e perciò si crea si crea un blocco veramente di antisocialisti e di favorevoli a un cambiamento perché il movimento socialista era soprattutto legato all'industria e al movimento operaio non ha saputo allearsi a crearsi quelle alleanze ma neanche coi contadini in cannavese no certo che fatto sì che poi gli altri si sono alleati tutti contro e l'hanno certo c'era un blocco diciamo così che oggi potremmo dire di destra liberale contro una una sinistra divisa anche qua cambiato niente sono passati cent'anni in questo clima in questo clima il cannavese è in questa fase di transizione diciamo così però viene un fatto a livello nazionale importante nel 22 a fine del 22 che è la marcia su Roma allora non c'erano le televisioni non è che ti hanno fatto vedere in diretta la marcia su Roma qualcuno con la radio ma come cioè i cannavesani come come la presero la marcia su Roma ma in maniera sicuramente contrastante perché il 22 per tutto il 21 anzi per tutto il 21 e il 22 furono due anni di scontri feroci con anche con morti di violenze e tutto perciò la maggior parte è difficile entrare nella testa della gente ma io penso che per la maggioranza era stufa di queste di queste continue marasma che c'era voleva voleva o da una parte o da l'auta come si dice e purtroppo e purtroppo questo non si intravedeva cioè pensi le giunte cosiddette di sinistra diciamo così cadono cadono per la politica che fanno che sono politiche demagogiche puramente proprio demagogiche cioè aumentando le tasse ai ricchi in una maniera ma così in maniera proprio ideologica certo spropositare poi è vero che fanno per le scuole sono per la scuola per la per la socialità tante cose positive ma che però non non lasciano il tempo che trovo pensa che il sindaco di la giunta di sinistra socialista eletta nel 20 di Ivrea si dimette perché il sindaco e un assessore aderiscono alla mozione comunista e scrivono proprio che per fedeltà al partito hanno ricevuto l'ordine di abbandonare i socialisti perciò si dimettono si dimettono mandando in crisi tutta la giunta tutta la giunta il commissario e poi le elezioni anticipate naturalmente vince vince il blocco torniamo alla marcia su Roma io direi di andare a marcia su Roma però io sono curioso però di una cosa questa prima della marcia di Roma me lo devi dire perché la marcia di Roma alla marcia di Roma Benito Mussolini non ci sarebbe stato se non fosse il merito il merito il demerito del fatto che Mussolini era la marcia di Roma è canavesano spiegaci perché c'è sempre un canavesano di mezzo spiegaci perché allora non lo dico naturalmente io ma lo scrive lo scrive Elio Megaton che era purtroppo è mancato già da diversi anni era uno storico di Caluso molto apprezzato e ha scritto diversi libri e nella sua storia 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 personaggi e cronache di Caluso racconta proprio questo questo fatto no che durante la durante la guerra c'era questo durante la guerra era il 17 mi sembra come della prima guerra mondiale ovviamente quella che è finita la prima guerra mondiale come come la storia racconta e come sappiamo Benito Mussolini interventista va alla prima guerra mondiale col grado di caporale è in trincea e questo Luigi Bretti si chiamava Luigi Bretti detto di Caluso di Caluso di Caluso era il suo sergente era il sergente di di e lui ha raccontato a Megaton che l'ha riportato nel suo libro ha raccontato che Mussolini si si offerse di andare a tagliare dei reticolati e di e ne parla molto bene dicendo che era veramente un uomo un ardito un uomo coraggioso coraggioso va volontario salta fuori dalla trincea mentre nel furore della battaglia e tutto la storia dice che viene colpito da una granata nemica lui invece dice che viene colpito da un che da un fatto accidentale che scoppia un mortaio lì vicino a lui scoppia un mortaio di italiano e lo ferisce comunque cambia niente il fatto è che lui rimane ferito e svenuto nel saliente della della trincea e lui salta salta fuori a sua volta lo prende per le gambe lo tira giù e lo riporta dentro sotto il tiro nemico lo riporta dentro la trincea di questo fatto Mussolini ha detto che si si ricordò si ricordò e lo ringrazio tantissimo Luigi Bretti è sempre stato un socialista e lo rimarrà sempre per tutta la vita e racconta nel libro che nel 1939 quando Mussolini da Osta arriva a Ivrea il Bretti con una delegazione va a saltarlo come si usava allora si incontrano i due si abbracciano insomma tra lo stupore di tutti gli altri che sapevano che lui non era fascista Bretti non era fascista non era fascista però questo è un racconto lo tiro giù da sotto il fuoco nemico all'attricea e gli salvò la vita se no sarebbe comunque la storia non parla di Bretti non parla di no però non credo che sia inventato è una piccola curiosità ma va bene ci voleva facciamo la marcia su Roma facciamo la marcia su Roma allora la marcia su Roma poi fra l'altro come sappiamo fu un po' una marcia da operetta perché Mussolini non ci andò arrivò in un vagone letto le truppe erano scalcinate e si fermarono a gozovigliare nelle osterie dove vendevano il vino del Colli Albani e non erano poi tanto così agguerriti ma stava poco per fermarle però la debolezza e la speranza del governo di anzi del re in questo caso le fece entrare e dette l'incarico a questo a questo deputato ex-socialista e oggi fascista che fu Benito Mussolini con la speranza di levarselo d'attorno il più in fretta possibile che sistemasse un po' le cose e tutto devo dire che intanto una cosa la marcia su Roma non fu solo però quella cosa da operetta ma nello stesso momento in cui si fa la marcia su Roma tutte le grandi infrastrutture nei grandi paesi vengono occupati dalle milizie fasciste diciamo così perché per esempio i nostri di Castellamonte del Canavese in quel giorno vanno a Torino partecipano insieme ai torinesi all'occupazione della stazione di Porta Nuova perciò non è solo questo gruppo che è andato a Roma nella valutazione del re e di chi per esso era anche il fatto che aveva tutti i luoghi nevralgici occupati bloccavano il paese comunque che bloccavano il paese certo ecco i fascisti canavesani la usarono così la partecipavano così nella pubblicistica del fascismo e si trovano ancora io ne ho parecchi messi da parte ci sono tutti i partecipanti di queste cose perché dopo figurati anzi erano un gloriarsi aver partecipato davano dei diplomi un'esaltazione collettiva un'esaltazione aveva partecipato alla marcia su Roma certo certo sì 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 fenomenale era una patente di cose il il ciurco si chiama ciurco è chi ha scritto storie della rivoluzione fascista no è uno scrittore che fece ben tre edizioni di storia della rivoluzione fascista allora nel primo nel primo nei primi tre volumi erano spessi così diciamo no e quello fatto nel pieno fascismo negli anni 30 erano già il doppio perché se ne erano giunti chissà tanto certo poi ne fece un'altra edizione nel 47 48 erano ridottissimi si modificavano molti scomparivano certo veniva aggiornati in quel caso certo e quindi arriva arriva il il fascismo si comincia a crescere il fascismo e incominciano siamo nel 22 dunque la marcia su Roma è del 28 ottobre già alla fine del 22 si incominciano però a vedere cose poco simpatiche di questo movimento fascista si già già anche già anche prima per farla breve ti dico solo questo se la violenza è sempre violenza io ho raccontato la prima parte perché perché è interessante conoscere la prima parte perché non erano i santi della prima parte che volevano tutto il bene gli altri cattivi eccetera però se violenza ci fu e ci fu sicuramente la violenza anche da parte da parte dei socialisti del movimento operaio eccetera fu una violenza così qualche scazzatottata l'hanno fatta qualche coltellamento anche in canavese ogni tanto compariva un coltello no ma non ci furono morti dalle altre parti no non uccisero nessun non c'erano spedizioni punitive non c'erano quello che caratterizzò invece lo squadrismo era una cosa e che fu la soluzione vincente era che erano delle persone preparate specializzate adatte a fare quel tipo di mestiere che lo facevano anche con voglia con passione la violenza era una cosa organizzata militarmente con l'aiuto anche non solo di soldi ma di mezzi di armi certo per esempio a Castellamonte chi metteva i camion per fare l'espedizione erano i padroni della CAI certo con c'era Altitalia che mettevano i camion per mandare in giro e poi questa invenzione di estrema mobilità che poi non erano mica tanti erano pochi però erano estremamente agili e poi quelli del paese non andavano mai a dar l'olio di ricino o a percuotere abbastonate quelli del tuo paese ma andavano sempre quelli degli altri che non ti conoscevano certo e perciò le spedizioni le facevano con grande mobilità piombavano in una manifestazione magari ecco buttavano giù dei camion e cominciavano a manganellare o a sparare anche certo infatti in canavese abbiamo adesso forse non abbiamo il tempo di soffermarci su questo ma ci furono 4-5 morti certo ecco spieghiamo bene questa è dal punto di vista sociale una differenza enorme come tu hai sottolineato allora le scazzottate avvenivano fra nel paese fra i vicini fra quelli che li sconoscevano al bar davanti alla chiesa cioè fra gente che viveva la stessa realtà ma la pensava in modo diverso no oppure gente che voleva andare a lavorare che c'era il picchetto e non li facevano entrare li menavano e questo è capitato anche negli anni negli anni più recenti certo sì sì io l'ho vissuto nel 68-69 capitava anche questo però erano scazzottate anche fra parenti fra conoscenti fra vicini la svolta con il fascismo erano le spedizioni cioè non più io non litigo con te perché non la penso come te non ho neanche il tempo perché io devo andare in quel comune là per fare quell'azione era un'azione paramilitare già e poi era mirata anche era anche mirata perché i capi lega i sindacalisti i politici venivano attaccati attaccati proprio singolarmente quando erano soli no certo cioè tanti sono stati presi a casa bastonati e tutto la strage di Torino quegli 11 morti che ha fatto la banda di Brandi Marte il 18 di dicembre del 1922 quella che ha dedicato anche la piazza di Porta di Porta Susa quella piazza si chiama piazza 18-28 dicembre furono 11 persone prelevati nelle case e uccise veramente barbaramente di fronte a figli e a tutti certo sì sì e noi abbiamo voglio ricordarne solo uno perché uno di questi era Matteo Tarezzo di Fabria Fabria era uno di Fabria che venne preso questo strage era abitava Torino venne prelevato di notte mentre dormiva portato giù dai parti di Vianizza e massacrato ammazzate con quelle mazze che usavano pericose e così tanti altri quindi cambiò completamente il volto cresceva questa violenza anche oltre che il partito fascista i fasci e andiamo verso altre elezioni le ultime elezioni prima prima della liberazione prima della fine della seconda guerra mondiale che sono nel 23 quindi tu hai detto bene si votò nel 19 nel 20 nel 21 poi nel 23 a mezzo ci fu la marcia su Roma nel 23 chi vinse queste elezioni? vinsero cioè le sinistre dopo il 19 fu un declino inesorabile inesorabile persero tutte le amministrazioni o per un motivo o per l'altro comunque vengono fatte fatte fuori costretti alla dimissione con le violenze per la gente che magari è arrivata adesso non ci ha seguito quando parliamo di sinistra parliamo del grosso che è il blocco socialista e di una piccola parte che era il neonato partito comunista che però contava ancora poco era certo adesso però in questi periodi in questi periodi c'erano già c'erano già il partito comunista certo era neonato sicuramente questa poi divisione che si è se la siamo portati avanti fino ai nostri giorni ancora certo questa responsabilità cioè la domanda che uno di sinistra si fa ma se non ci fosse stato quella divisione sarebbe capitato quel che è capitato chi lo sa chi lo sa probabilmente capitava capitava la stessa ma nessuno nessuno può certo quindi certamente fu una un disastro una sventura non solo per la grande politica ma anche per i territori ci furono queste elezioni amministrative nel 23 e il partito per la sinistra fu una debacle sicuramente sicuramente e però vennero fuori questi blocchi fatti da partito dei fasci partito popolare liberali più che tutto erano liberali con un po' di tutti dentro c'erano comunque possiamo dire che variava poi da posto a posto magari in un posto c'erano c'erano qua solo due ultrafascisti e tutti liberali un altro ai fascisti erano molto di più un altro erano perché erano amministrative ricordiamo l'idea comunque era sempre e la vedi anche leggendo i giornali nostri la sentinella o quanta l'idea comunque era sempre che ma sì adesso è così ma poi dopo ce ne liberiamo poi l'importante ecco ribadivano sempre la legalità certo i liberali che facevano parte di questo bisogna dargli atto che erano per la legalità tolleravano vabbè strassisti ammazzano qualcuno lo so capita le condanniamo no però avevano sempre la legalità la legalità che invece gli altri era di tutt'altro parere lo vediamo con l'evolversi proprio proprio delle cose io chiuderei con per esempio ricordando ricordando l'ultimo l'ultimo sindaco democratico eletto che era poi era un liberale anche ma non faceva parte era un liberale un po' dissidente comunque una bella persona che per ultimo resistete fino all'ultimo fino all'ultimo fino al 25 1925 perché nel 23 venne eletto il sindaco socialista che c'era l'avevano già fatto fuori e tutto lui fa una lista di ex combattenti di Caluso e c'era c'era la particolarità che la sezione degli ex combattenti di Caluso era antifascista non accettava il fascismo erano liberali ma contro e comunque vince a un grande successo viene fatto sindaco riesce a governare dal 23 fino al 25 nonostante una grande crisi una grande crisi sociale perché poi abbiamo tralasciato tutte le crisi industriali che avvengono perché dopo dopo che si affermano di nuovo le destre è la fine per i consigli di fabbrica è la fine per tutti i licenziamenti fioccano a volontà fabbriche che chiudono gente che viene buttata fuori gli accordi disdetti tanto per dire c'era l'imposizione che se volevi continuare a lavorare dovevi abbassarti la paga accettare un contratto che ti diminuiva la paga e ti aumentava l'orario e anche qua qualche qualcosa ci abbiamo mi sembra che mi giunga qualche cosa che assomiglia qualche ricordo recente era molto più spiccio perché in una fabbrica a Ponte 1500 persone diceva allora domani siete tutti licenziati non ci siete più dalla prossima settimana vi riassumo di nuovo però il nuovo contratto è questo 10% di paga in meno e 10 ore di lavoro per dire era più articolato ma era così e avanti casca tutta questa cosa qua comunque per tornare al nostro Mario Actis dato si chiamava che è una figura mi piace perché è abbastanza patetica perché resiste fino all'ultimo non vuole non vuole cedere e lo fanno poi cedere perché anche lui con le minacce tanto per dire quando lui andava in consiglio comunale per entrare per entrare in comune si trovava tutto in manipolo dei fascisti schierati col banganello che giravano e gli dicevano sindaco ma cosa fai non è ancora ora che ti levi non guarda che ma hai dei figli ma dove hai c'è tutta roba intimidazione di questo tipo come lui a tutti gli altri e alla fine anche lui cede butta la spugna come tutti gli altri abbiamo nel frattempo hanno fatto la legge acerbo che già modifica di nuovo un'altra architettura parlamentare delle elezioni in maniera che c'è un grosso premio di maggioranza che vince perciò vincono i blocchi dove ci sono i fascisti c'è il patto il patto di Palazzo Vidoni come è chiamato che è un patto fra Confindustria e sindacati fascisti dove la Confindustria riconosce solo i sindacati fascisti e metti fuori leggi tutti gli altri perciò le trattative le fanno solo più i fiduciari fascisti delle fabbriche questo ufficializza quello che tu dicevi prima anche in Canavese che il fascismo fu sostenuto e piano 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 va avanti prendono tutto il posto fino alle leggi fasciste alle cosiddette leggi fascistissime del 66 dove Mussolini il 26 dove Mussolini si proclama capo di stato segretario primo segretario primo ministro e tutto c'è un passaggio la dittatura nasce nasce un passaggio in 5-6 anni da Canavese rosso Canavese nero ah sì poi da allora il Canavese come tutti cominciò a vestirsi di nero certo vestirono tutti di nero certo quindi il Canavese rosso rimase ancora chi portò avanti la fiammella che poi nel 45 rinacque rinacque con tutte le vendette in evase del 20 quello che capita poi anche nel 45 tutte le disgrazie che capitano e le cose brutte ed è precabile anche fatte dalla resistenza e tutto avevano anche un fondamento in vecchi torti subiti certo 20 anni prima perché se ti ammazzano un fratello 20 anni prima 20 anni dopo te ne ricordi certo e quando poi la vendetta tutte queste cose brutte che che tutti conosciamo finisco se hai ancora pazienza finisco sicuramente sì ma abbiamo siamo andati purtroppo è un argomento che bisogna dividerlo o magari ritornarci poi ci torneremo ci torneremo con altri aspetti sicuramente solo due cose voglio ancora 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 dire in tutto questo periodo in tutto questo periodo che abbiamo che abbiamo visto ci sono un casino di tantissimi canavesani per rimanere canavesani che finiscono nella rete del regime e vengono schedati e vengono vengono boicottati e patiscono tantissimo per le loro idee politiche certo persone che noi non ricordiamo neanche più e neanche la sinistra si ricorda perché le ha veramente dimenticate io col professor Perotti è da anni anche questo che siamo stati a Roma al casellario politico centrale dello Stato abbiamo tirato fuori 627 dossier di canavesani perseguitati cosiddetto dal regime sono 627 delle storie veramente interessanti perché il regime era questo il regime era entrare nella persona se tu la pensavi in una maniera un po' diversa ti andavo a prendere casa magari ti davo due botte o se no ti facevo anche di peggio e comunque tu non lavoravi più o non andavi più in certi posti non ti davo il passaporto eccetera eccetera robe che che conosciamo ma soltanto per darti un'idea sul casellario politico centrale dello Stato fondato nel 1894 già da Crispi comunque dal 1894 al 1922 troviamo 178 schedature di canavesani in questi 20 quasi 30 anni invece nel periodo nel periodo fascista ne abbiamo 575 nei 20 anni del fascismo sono 575 di persone schedate 557 scusa 557 in 20 anni perciò c'è una crescita notevole perciò l'ingerenza dello Stato e su questo magari ne parleremo un'altra volta direi di sì ultimissima cosa a quelli che dicono a quelli che dicono c'era anche del buono no c'era anche del buono io ricorderai solo di andare a vedersi perché per esempio le otto ore c'erano già nel 1920 le conquistarono nel 1920 no la pensione la conquistarono già prima del fascismo no la sanità tutte queste cose erano già conquiste degli anni 20 che poi il fascismo ha uniformato creando quei quei organismi che non era poi male nel senso dell'Inps dell'Inaid no ha nazionalizzato creando però uno statalismo che ci siamo che ne abbiamo pagato anche le conseguenze dopo e che varrebbe la pena certo diciamo diciamo che il fascismo ha preso i meriti di quello che nel dopoguerra nel primo dopoguerra è nato li ha fatti propri esatto li ha fatti propri così come quelli che vanno a inaugurare i ponti o gli edifici che hanno messo su i sindaci precedenti ma poi finiscono con il loro mandato ecco apprezzo apprezzo di una grande di una grande depressione sociale perché gli stipendi saranno per arrivare al livello del 20 dovremmo aspettare dopo le guerre dopo la guerra di attura certo la famosa quota 100 anche lì c'era una quota 100 guarda un po' riguardo ma sì davvero riguardo la lira no certo volevano tenere la lira che era qualcosa riferito al dollaro alla sterlina 100 lire certo sì sì non conosco bene la cosa comunque anche lì c'era una cosa che quella voleva dire una depressione dei salari certo sì l'inflazione che galoppava quindi per tenersi sotto anche nel cambio per favore le guerre certo certo e gli stessi contributi dell'Inps gli stessi contributi dell'Inps che finivano erano erano uguali come adesso che non sono più garantiti dallo Stato ma tu versi e spera che ci sia qualcuno che li paghi certo quando andai in persone no furono polverizzate allora tutti quei soldi vennero impiegati per finanziare la guerra in Etiopia fra l'altro certo e comunque tutti i i i il capitale dell'Inps venne polverizzato dalla guerra certo gente che pagava aveva degli stipendi in lire che erano valutate 100 200 lire no la pensione era 80 lire ma 80 lire diciamo ma dico cifre così nel 47 non erano nulla no no certo non potevano darti 80 lire perciò lo Stato certamente giustamente ha dovuto rivalutare tutto chiaro con problemi economici e sociali enormi ma diciamo che è stato interessante intanto ne abbiamo fatto per un'ora e mezza ma era giusto farla così anche perché hai tagliato molto poi perché ne avresti avuto molto di più da dire però era interessante perché secondo me abbiamo capito che cosa è successo prima dell'arrivo del fascismo con una sinistra che non è stata forse solo abbattuta dal fascismo una sinistra che è morta da sola e il fascismo ha camminato sulle sue ceneri questo mi pare di poter dire in Italia ma anche in Canavese come ovunque ok purtroppo è la triste realtà della storia della storia questo ci dice la storia non lo diciamo noi comunque uno lo pensi va bene Emilio io ti ringrazio per questa ora in mezza che ci hai dedicato io ringrazio voi per la chiacchierata insomma speriamo che serva appunto è una roba appunto fatta in diretta così ma speriamo che qualcuno magari si interessi alla cosa che va davanti io spero di tutti di questa roba fare almeno una pubblicazione un qualcosa che rimanga che rimangano le cose che possono essere da servire per qualcuno per qualcuno certo per il futuro io spero invece è che noi ci rivediamo perché con la stessa lucidità e con lo stesso rigore storico con cui tu hai analizzato questa situazione non facile dal dopoguerra oggi vorrei analizzare qualcosa della vita partigiana e del dopo 45 anche lì un dopoguerra con magari personaggi tu hai conosciuto personaggi storici e tutto vorrevo cercare di portare attraverso la tua voce la storia alla gente che forse parla solo per sentito dire a volte bisogna invece prendere le fonti vere per cui possiamo trovarci ecco se tu avrai voglia se tu avrai voglia lo faremo ok ti ringrazio molto ringrazio voi la memoria viva speriamo che vada avanti perché veramente una bella stiamo facendo delle belle cose lo faremo e le faremo sempre la memoria viva anche in collaborazione con te con Terra Mia perché ormai insomma c'è quasi un gemellaggio di fatto prima o poi facciamo una pizza quando si potrà finito il lockdown di gemellaggio ufficiale ti ringrazio ancora arrivederci ciao 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 ciao